Musica Musica Noi fumo i gattopardi, i leoni Che ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene E tutti quanti, gattopardi, leoni, sciacalli e pecore Continueremo a crederci il sale della terra Credo di non aver capito bene, come ha detto? Niente, niente Scusi, come ha detto? Non ho sentito Siamo a Cinecittà, al MIAC Il Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema E siamo qui per il consueto appuntamento con i libri al MIAC Libri sul Cinema Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Piero Spila Vicepresidente del Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani E direttore della rivista Cinecritica Benvenuto Grazie Allora, il suo ultimo libro è intitolato Il Gattopardo di Lucchino Visconti Pubblicato dall'editore gremese Io incomincierei Spila proprio dalla frase Dalla celebre frase tratta dal romanzo di Tommasi di Lampedusa Che è anche citata nel capolavoro di Visconti Se vogliamo che tutto rimanga com'è Bisogna che tutto cambi Ecco, dopo lo sbarco dei mille in Sicilia Si manifesta quel gattopardismo Che diventerà presto un sinonimo del trasformismo nazionale Ma fu da mero a suo avviso questo elemento politico-antropologico A spingere Visconti verso questo capolavoro Oppure qualcos'altro? Lei nel suo libro parla di un'attrazione verso l'abisso Certamente nel Gattopardo c'è un fenomeno di identificazione Da parte di Lucchino Visconti È un film fondamentale per la storia del cinema Per quello che rappresenta per capire la storia dell'Italia È un film nato negli anni 60 Ma è un film fondamentale proprio nella filmografia di Lucchino Visconti Perché dopo il Gattopardo cambia il suo cinema Mentre prima era uno dei padri del neorealismo Pensa la terra trema, pensa ossessione Il melò storico che era Senso Il romanzo sociale che era Rocco e i suoi fratelli La commedia sociale bellissima Dopo il Gattopardo lui comincia a cambiare cinema Comincia a parlare appunto di un sentimento Che lui dice di amare molto Che era la decadenza, il decadentismo Ed era attratto dagli sconfitti Dall'uomini, dai personaggi che avevano il destino segnato Quindi il protagonista del Gattopardo Il principe Fabrizio di Salina Ma poi verrà Ludwig, poi verrà il professore di morte a Venezia Poi verrà il professore di gruppo di famiglie in un interno Cioè veramente se uno vede E proprio lui cambia Comincia a fare quasi in qualche modo ossessivo Su questo tipo di personaggio E c'è un'identificazione perché in quel principe Vede il declino, vede il passaggio di consegne Dall'aristocrazia a un altro sceto che sta arrivando E lì è addirittura di da scalico Nel dialogo, oltre alla famosa frase Cambiamo tutto perché niente cambi C'è il discorso dei gattopardi e delle iene Degli sciacalli che arrivano I gattopardi stanno cedendo le armi Stanno lasciando il passo E arrivano le iene Lui c'è là uno in famiglia Che è il nipote che è Tancreti Ma c'è la borghesia Rappresentata nel film da Sedara Dal personaggio di Stoppa E c'è l'alleanza C'è l'alleanza tra il cedo in decadenza Che è il cedo aristocratico E il nuovo cedo che è la borghesia Tutto con lo sfondo di quello che sta succedendo A livello storico Perché tutto cambia in realtà Ma cambia in peggio Il gatto parto esce nel 1963 E vince la Palma d'Oro a Cannes In pieno boom economico E quindi in un periodo di grande euforia Ideologica e sociale E secondo lei in Visconti C'è un elemento di distanziamento Di rifiuto di questa euforia collettiva C'è una sorta di presa d'atto Che la sua vera cifra Era quella che potremmo definire In maniera un po' generica Decadenza? Questo è un film che nasce Nei primi anni 60 Ed è fondamentale capire teneramente questo fatto Il film esce nel 63 E' stato girato nel 62 E' stato progettato nel 61-62 Con l'uscita del romanzo Il best seller di Tommaso di Rampetusa In quel periodo L'Italia vive il periodo più grande Della sua storia Non si è più ripetuto E temo che non si ripeterà più Era il cosiddetto miracolo economico C'era un tasso di crescita Favoloso Il 5-6% in più ogni anno Tutti gli indici erano in crescita L'occupazione, la produzione, i consumi E che in quel momento Il cinema italiano Si inebria da questa atmosfera E tenta quella che è una grande sfida L'assalto al cielo Cioè pensa di fare come Hollywood Sfidare le measures Proprio in quegli stessi anni Sulla pontina Dino delle Orenti Si crea Dino Città E progetta la Bibbia E Goffredo Lombardo Della Titanus Mette in cantiere due film Due colossal Sodoma e Gomorra Di Aldrich Che pensava a Ben Hur E il nostro Gatto Pardo Che pensava chiaramente A Via Colvento E quindi chi è il regista Che può fare questa Questa messa in scena Può ispirarsi a questo colossal In costume Storico Anche ideologico È Luchino Visconti Verga Mann Dostoevsky Tommasi di Lampedusa Sono alcune delle fonti Di ispirazione Del cinema di Luchino Visconti Tuttavia Lei nel libro Avvalora la tesi Di Gianna Meglio Secondo cui L'autore Visconti Serve un autore Anzi Uno degli autori Meno letterari Del cinema italiano Perché? Sì Questa è una cosa Singolare Che serve appunto A sfatare uno dei miti Anti Visconti Visconti Veneva sempre considerato Un regista di teatro Che ogni tanto Tra una messa in scena E un'opera lirica Faceva dei film Poi era talmente Ossessionato Dalle scenografie Dai costumi Che faceva Di evitare i budget E mandava le rovine I produttori E lui era uno Che aveva un uomo Molto colto Quindi Naturalmente Le fonti Ispiratrici Sono Marcel Proust Thomas Mann Però poi in realtà Era un grande Regista di cinema E il gatto pardo Se uno lo analizza A già partire Dalla prima sequenza È pieno Di idee Di cinema È uno dei film Dove Come dice Gianni Amelio Io condivido in pieno È il meno letterario Possibile Anche se va Riprende Uno dei romanzi Il culto Perché il gatto pardo Prima di essere un film Era un romanzo Best seller Di grande successo Lui però In questo senso Tradisce Il testo Di Thomas di Lampedusa Il quale invece Si sofferma Per esempio C'è tutta la parte finale In cui la decadenza Viene messa in scena Dove c'è La vecchiaia del principe La vecchiaia delle figlie La crisi economica Lui lascia Tutto questo Lo fa vedere Attraverso il ballo Che è il massimo Della messa in scena Non ci sono neanche dialoghi Lì ci sono soltanto Delle rappresentazioni Di una rappresentazione Di qualcosa Che sta accadendo Allora si vede Il fasto Il ballo Il divertimento Però si parla di morte Però si parla di battaglie Di ferite La macchina da presa A un certo punto Si sposta La prima volta Che io vedo Una cosa del genere Va a vedere Un angolo Una grande stanza Che è stata adibita Alle latrine Lì c'erano Non c'erano i bagni A quell'epoca Nell'ottocento E quindi anche Una casa principesca C'erano centinaia Di invitati E quindi E sì La macchina Fa una panoramica E si sofferma A quella cosa Proprio la decadenza fisica La vecchiaia Del principe Che ha dei mancamenti Lui vede Rivede Senza parole Vede Dei giovani Delle ragazzine Che stanno giocando Stanno divertendosi Però non sono belle E lui dice Noi a forza Di sposarsi Tra di noi A non mischiare Il sangue E facciamo vedere Questi mostriciattoli Queste scimmie Mentre invece Poi si gira E guarda La bellezza di Angelica Che è invece Il nuovo Il nuovo potere Che avanza Il futuro Insomma Sono tutte immagini Che lui realizza Proprio a livello Di regia cinematografica Qui non c'è proprio Non c'è nulla Di teatro Insomma Ma in questo senso È un film Dove invece Lui si sofferma E ci sono Dei momenti Di grande cinema Di grande cinema C'è La prima sequenza Delle Rosario Dove Il protagonista Vero È questa tenda Di lino Che batte Vorticosamente Entra in campo Di quinta Macula Il viso Dei protagonisti Proprio a rappresentare Che qualche cosa Sta succedendo Sta arrivando La storia A Palermo Sono sbarchati I garimbaldini Oppure C'è una Una lunga sequenza Dedicata A due personaggi Che scompaiono Che sono Mentre Angelica E Tancredi Claudio Cardinale E Alain Delon Sono i due vincitori Sono i due belli I due innamorati Che c'è una lunga scena Tancredi Va avanti E non li vediamo più Questi due personaggi Nel film Sono usciti E quindi C'è questa panoramica Dove c'è tutta un'aneddotica Molto carina Dove va sui camini Di Cimmina A questo paese Dove è girato il film Dove è girata questa parte In cui la famiglia Del principe Va in vacanza E quindi È stato trovato In questo piccolo paese All'interno della Sicilia Ed era estate E c'erano questi camini Lui pensava a fare Questa panoramica In cui doveva Anciutti Inquadrare questi camini Che voleva che fumassero Perché era l'ora di pranzo Quindi stavano cucinando Insomma Se non c'era estate E allora Molte delle famiglie Stavano in villeggiatura E allora Visconti Naturalmente voleva Che ha costretto Tutti La distribuzione A cercare I proprietari A farli ritornare No? Perché dovevano Accendere i camini Dovano farli E c'era Pare che Pare Che Qui bisogna Affidarsi poi all'aneddotica Perché uno non era testimone Però sembra che un cammino Solo una famiglia Non era ritornata E lui quando Dà il ciac E comincia a vedere Si accorge che questo cammino Non fuma E lui dice Ferma Stop Non parte E passano due o tre giorni Prima che riescono Ad aprire la porta E riaprire Lui voleva che tutti i cammini Dovano E se voi vedete la scena Se uno ha la voglia Il piacere Di rivedere il gatto pardo Perché è sempre un piacere Se uno fa a casa Questa sequenza Questa panoramica Con questi cammini Che fumano Tutti Si rende conto Del perché Lugino Visconti È un regista di cinema Un regista Che vede le cose Vedendole Narra Racconta Un aspetto Molto importante Lo diceva anche lei Pocanzi È l'aspetto Dell'attenzione Della scenografia Dell'arredamento Diciamo Del cinema Di Visconti Ecco Come ce lo racconterebbe Come ce lo racconterebbe Questa Quest'ossessione Ma anche il culto Di Visconti Per i costumi Le scenografie Insomma Per quello che era Il sette C'è L'ossessività Ci sono altri Esempi Da poter fare Di registi Anche recenti Che fanno parte Della nuova generazione In cui Sono famosi Per l'ossessività Del particolare Uno per tutti Nanni Moretti Naturalmente No L'Ughino Visconti Era certamente Innamorato Del Del fasto Ma perché Perché poi Ripeto Corrispondeva però A un'idea Di messi in scena Il fatto che lui Volesse che Le posate Fossero d'argento Ma nessuno Si vedono Da lontano Però lui Voleva che fossero D'argento Le posate E i piatti Fossero di una ceramica Particolare Perché voleva Che i personaggi Che interpretavano Quella scena Sentissero L'argento Sentissero La ceramica Quindi è sciocco Dire Ma lui Pretendeva No ma lui Lo faceva per gli attori Perché voleva Che gli attori Si sentissero Responsabilizzati Doveva entrare Dentro quel ceto Dentro quel contesto Sociale Che dovevano interpretare Che era un ceto Di grande Pasto Di grande eleganza Di grande lusso E lui su questo Faceva delle battaglie Straordinarie Lì lì non cedeva Come la famosa tenda Di cui abbiamo detto prima Voleva che quella tenda Fosse di un lino particolare Ci devono essere Dei ricami particolari Che dovevano rifare Il marchio Della famiglia Salina Dovevano avere Una consistenza Si doveva muovere Col vento In una certa maniera Ma perché era Secondo lui Quello era Era un simbolo Se vogliamo Anche Troppo eloquente Però Certamente Per lui importante All'inizio Lucchino Visconti Ebbe E lo ricordo Tra l'altro Nel libro Ebbe a definire Bart Lancaster Un cowboy texano Quali furono i rapporti Di Visconti Con Lancaster E come furono i rapporti Con altri due Attori straordinari Di questo film Ovvero sia Alain Delon E Claudio Cardinale Beh questo Il rapporto Tra Visconti E Bart Lancaster E' davvero Molto bello Cioè ecco Il Gatto Padre E' uno di quei film Pure che Il progetto Del Gatto Padre Può essere raccontato Davvero come un romanzo Perché ci sono poi Degli incontri Delle sorprese Ecco L'inizio Con Bart Lancaster Fu burrascoso Perché Lucchino Visconti Non lo voleva assolutamente Lucchino Visconti Per il principe Di Salina Che Naturalmente Dalle pagine Del romanzo Di Tomasi Di Lampedusa È un gigante È biondo Rosso di capelli Insomma È un aristocratico Siciliano Lui pensava A Marlon Brando Che era una sua idea Fissa Dall'epoca di senso Che voleva Che non era riuscito Ad averlo Marlon Brando Non era disponibile Allora La seconda chance Era Orson Welles Però Orson Welles Era molto Chiacchierato Dicevano che era Un personaggio caratteriale Creava dei problemi Sulla produzione Insomma E lui era molto In difficoltà E Goffredo Lombardi A quel punto Ha un'idea geniale Perché Dato che Aveva sentito L'America La Fox Che avrebbe acquistato I diritti Per la distribuzione americana Ma pretendeva Un attore Di un certo tipo E diceva Perché Non pensi A Barlancaster E lui La prima risposta A Barlancaster Mai Quale è un Cowboy texano Cosa c'entra Con un aristocratico Siciliano Quindi era proprio E lì fu bravissimo Anche questo Poi sì Nei libri Nei documentari Su Goffredo Lombardo È molto ben raccontato E c'è veramente La genialità Di un produttore italiano Nel senso Che Lombardo Va a Hollywood Per i suoi interessi I suoi affari Incontra Barlancaster E dice Che ci sarebbe Questo progetto E Lancaster Era molto interessato Perché Non per Visconti Perché Conosceva poco Rubino Visconti Ma perché Aveva letto il libro Di Tomasi di Lampedusa Barlancaster Era un uomo Molto intellettuale Era un attore Che leggeva Che studiava E quando sente Era molto interessato Poi chi è il regista Lugino Visconti Lo conosceva poco E Comunicato Però Va bene Lo faccio Quindi torna Da Lugino Visconti E gli racconta Una favola Gli dice Guarda Barlancaster E folle di te Ha fatto un sacco di film Ma il suo desiderio maggiore È fare un film Con Lugino Visconti Il regista Della terra trema Assolutamente vero E Lugino Visconti Si sente un po' Un po' narciso Forse Si sente un po' Vabbè Proviamo Parliamoci Incontriamolo E lui organizza Questo incontro All'Eccelsior Quindi racconta Lombardo Dove Anzitutto Li fa Li presenta Poi lui esce Li lascia soli Terrorizzato Perché pensa Alla prima frase Capiscono E invece Lì nasce Una grande amicizia All'inizio combattuta Perché Le prime scene Visconti Pare che non fosse soddisfatto La prima scena La prima scena Che ha girato Del film Era la scena Del ballo E Barlancaster Aveva un problema Al ginocchio Perché come Gli attori Americani C'era questo culto Del fisico Lui faceva Delle lunghe Corse Insomma Si era fatto Tomare al menisco Quindi ballava Non bene Poi invece nasce Una grande amicizia Fino alla fine Perché poi Lancaster Sarà quello Che gli consentirà Visconti Di girare Gruppo di famiglie Non interno Perché quello E' un film Dove Lui Visconti Era già Gravemente malato Quindi era In carrozzina E L'assicurazione Sai quando Questi film Importanti C'è l'assicurazione Che deve Assicurare il film Non avrebbe Accettato Era E quindi Barlancaster In maniera Molto riservata Firmò nel suo Contratto La sua disponibilità A subentrare Come regista Di riserva In caso Di mancanza Da parte Di Lui Visconti Senza Faglielo dire A Visconti Questa è una cosa Che è tornata Poi recentemente Se vi ricordate Wim Wenders E Michelangelo Antonione È una cosa Che si fa Dove Le assicurazioni Quando c'è Il regista Che non sta In buone condizioni Vuole un regista Però che sia di livello Non poteva essere Un regista qualsiasi Barlancaster Garantiva Credi Mezione Se non ci siamo Anche noi Quelli ti combinano La Repubblica In 4 e 4 8 Se vogliamo Che tutto rimanga Com'è Bisogna che tutto cambi Mi sono spiegato Alain Delon Era quasi una scoperta Di Lucchino Visconti Lucchino Visconti Alain Delon L'ha scoperto E era rimasto Addirittura Folgorato con Rocco Poi ha messo in scena Peccato che sia una sgualtrina A Parigi Dove c'era Roby Snyder E Alain Delon Quindi aveva una grande E Alain Delon Era assolutamente Perso Per lavorare con Lucchino Visconti Era veramente una sua creatura Ecco lì c'era un momento In cui si è pensato A Romy Snyder Perché lì c'è La divisione Tra L'Hendelon E Romy Snyder E arrivò la scelta Di Claudio Cardinale Visconti Era Grande ammiratore Di Romy Snyder Però non la ritenne Era molto semplice Fare Romy Snyder Non la ritenne Giusta Per il personaggio Di Angelica Ed era invece Una bellezza italiana Una bellezza solare E pensava Non poteva che essere Claudio Cardinale Mentre Claudio Cardinale In quel periodo Contestualmente Al Gatto Pardo Girava 8 e mezzo Di Federico Fellini Per cui lui c'è tutto Un racconto Spostamenti notturni Da un set all'altro Con patemi d'animo Gelosie Dei due registi Insomma No Claudio Cardinale È un'attrice E poi Claudio Cardinale Ha continuato a lavorare Per Lucchino Visconti Entra nella sua squadra Entra perché poi Visconti si contornava Di tutta una serie Di attori Su cui aveva Una grande fiducia Esercitava il suo carisma E lo seguivano E Claudio Cardinale Diventa Insomma Una di queste Faravache stile Dell'orsa Che è un film Che praticamente Viene girato Viene costruito Proprio intorno A questa attrice Allora Il Gatto Pardo Non piacque A tutta la critica Italiana Inclusa quella di sinistra Che di solito Si schierava Con Visconti Contro Fellini Ma il film Il Gatto Pardo Ottenne il consenso Di Palmiro Togliatti All'epoca sanitaria Del partito Comunista italiano Ci dice Qualcosa in più Sull'accoglienza Del Gatto Pardo Da un punto di vista Della critica E sulle dinamiche Proprio della critica In quel preciso Periodo storico Sì Le riserve Maggiori Su questo film Fono avanzate Proprio da certi Critici Dei quotidiani Della sinistra I quali avevano Combattuto Il romanzo Ma anche sulle film Avevano esercitato Un po' di riserve E la cosa curiosa E credo che poi Diventò la cosa fondamentale Che fu Il vero Ammiratore Del film Fu stranamente Palmiro Togliatti Che era Lo storico Segretario generale Del partito comunista Grande amico Di Luchino Visconti Luchino Visconti Sappiamo tutti È un aristocratico Però un aristocratico Particolare Lui veniva da Visconti di Motrone La madre Era della famiglia Erba Quindi era un capitalista Di una vecchia famiglia Aristocratica Però poi votava Per il partito comunista Creando Tutta una serie Di riserve Anche all'interno Del partito Ed era molto amato Molto ammirato Da Palmiro Togliatti E c'è questa lettera Che noi Abbiamo pubblicato Nel libro Che è veramente singolare Dove È una lettera privata Dove Palmiro Togliatti Scrive A Luchino Visconti Ma scrive a Luchino Visconti Ma secondo me Per far capire Per far sentire A chi scriveva Sui giornali Del partito Cosa che lui pensava E dice So che Ci sono delle opposizioni Ci sono Dei consigli Che ti stanno arrivando Sul tagliare E la scena finale Del ballo Che dicono Che è troppo lunga Se vuoi sapere Il mio consiglio Tu non la devi tagliare Perché quella è la scena Nella sua ossessività Poi dice Non so Se dico bene Diceva benissimo Perché ossessività Dato che Visconti Aveva fatto ossessione Sapeva Sapeva di toccare No? Un termine Di usare un termine Molto viscontiano Cioè Rende proprio Il senso Del film Cioè il film Senza quella scena Senza quella lunghezza Senza quella ossessività Perde molto del suo senso Effettivamente è così Cioè quello è un film Che dove l'ultima scena Va presa Perché è un film All'interno del film Ma è come se fosse La sintesi finale Perché dice Quello che è successo E sta dicendo Quello che succederà Tra poco Quanti giorni di riprese Sono accorse Per fare la scena Del ballo 46 minuti Dei 186 Compressivi Del film di Visconti Un vero e proprio Film Nel film Dunque Tutti i film Le riprese Sono durate sei mesi Girate in due In due momenti Una prima A Palermo In un palazzo Patrizio Di Palermo Invece Un'altra parte Sempre del ballo Però con altri ambienti Perché doveva girare Altre scene Altre situazioni Qui Un palazzo Ad Ariccia Ah ecco Un'altra cosa Fondamentale da dire Che lui non usava Il teatro di Posa In questo film Dove era molto più comodo Immaginare un teatro di Posa Teatro 5 Di Cinecittà Poteva essere tranquillamente Adibito A dei saloni In cui lui invece Voleva andare Proprio nei palazzi Patrizzi Dove vivevano Un certo tipo di persone Dove ci si poteva girare Con una certa atmosfera In una certa aria E quindi è stato girato La scena del ballo È stato girato In due momenti All'inizio del film A Palermo E una parte consistente Ad Ariccia Un'ultima domanda Forse una delle domande Più importanti Proprio Sul tema Che lei affronta Nel suo libro Il rapporto Fra il gatto pardo Il romanzo Di Giuseppe Tomasi Di Lampedusa E il gatto pardo Di Lucchino Visconti Quali sono I punti di contatto I punti di somiglianza I punti di mimesi E quali sono invece I punti in cui I due capolavori Si distanziano In qualche modo No, no Dunque Molto Questo è importante Perché dunque Il romanzo Di Tomasi di Lampedusa Ha un arco temporale Molto ampio Dove racconta Il risorgimento La presa La vicenda Di Garibaldi De Garibaldini In Sicilia Ma arriva fino Alla parte finale Alla crisi Della famiglia Quindi sono Un arco temporale Di una decina Dieci, venti anni Molto ampio E invece il film Di Visconti Visconti quando vede Questo Leggi romanzo E comincia a lavorare Alla sceneggiatura Insieme con i suoi Sceneggiatori storici Enrico Medioli Susso Cecchi d'Amico A cui si aggiungono Massimo Franciosa E Festa Campanile La prima cosa Che fa fondamentale È di ridurre Quest'arco temporale Tutto il film È girato Nell'arco di due anni Comincia nel 1860 Il giorno in cui I Garibaldini Arrivano a Palermo E finisce Nel 1862 All'indomani Dei fatti di Aspromonte Quando c'è appunto L'esercito piemontese Che dice a Garibaldi Basta Ti ferdi E c'è il ritorno all'ordine È quello che diceva Probabilmente Tancredi A suo zio Tutto deve cambiare Perché nessuno Niente cambia In realtà È cambiato Perché sono cambiati I protagonisti È cambiato il ceto Però forse È rimasto imbutato Il rapporto di forze Tra le classi È cambiato il ceto Grazie a tutti